Noi siamo insieme da nove anni e nove anni fa ero una persona diversa nove anni fa immaginare di stare qui con queste persone in questa location e dire queste parole che abbiamo appena detto quindi se lo voglio per me era impossibile adesso dai da stamattina che non vedo l'ora di farlo grazie grazie